Da loro io ho un piccolo conflitto di interesse, spero che cambi l'idea sui cani in casa. Perché non vuoi cani in casa? Io sì, ma una persona di Forza Italia. Una persona che le conosce. Ah, De Girolamo non vuole il cane in casa. Quindi si deve pensare Berlusconi a parlare con la De Girolamo, ho capito. Sono arrivato un po' tardi ma l'ho capito. Devo essere coerenti ora, no, perché non è che vengono qui davanti alle telecamere e dicono alcune cose. Sono d'accordo, ha ragione e boccia. Cioè, poi... No, non lascio perdere gli animalisti. Noi però siamo in una situazione drammatica.